degli esperti che ci parleranno di un tema assolutamente rilevante e d'attualità. Si tratta di uno di quei interessantissimi punti di contatto fra l'attualità, la quotidianità e quelli che sono i macrosistemi che governano il sistema finanziario o i sistemi finanziari mondiali. La serata sarà registrata e avrete la possibilità nei prossimi giorni anche di sentirla, rivederla nuovamente attraverso il canale YouTube del Collegio Ghislieri. Lascio da subito la parola al dottor Pietro Tutrisi che introdurrà in modo più specifico ancora di quanto abbia fatto io la serata e ringrazio a tutti per l'attenzione. Grazie. Allora, benvenuti a questa conversazione che ha carattere molto divulgativo perché siamo nell'ambito della Global Money Week, che è una manifestazione internazionale, questa è la manedizione e quest'anno ha come tema ufficiale prendi di cura di te stesso, abbi cura dei tuoi soldi, che è un invito rivolto soprattutto ai giovani, ma addirittura ai bambini, anche addirittura a quelli in età prescolare, altre iniziative del ricco calendario che trovate sul sito del MEF o quello nostro, l'occasione finanziaria per tutti, quindi lo trovate attraverso Banca d'Italia, entrate dal sito Banca d'Italia, perché è importante acquisire gradualmente le conoscenze e agire secondo comportamenti che possano sviluppare abitudini di risparmio intelligente e che possano, soprattutto per voi giovani, consentire in futuro di prendere decisioni finanziarie che siano adeguate, conformi alle vostre esigenze, ma anche e soprattutto alle vostre possibilità. Questo anno l'attività è coordinata dal Comitato per l'educazione finanziaria, fino all'anno scorso erano gli amici della Consob che coordinavano l'iniziativa in Italia. Arriva in particolare in un periodo abbastanza triste la pandemia che ci costringe a questa modalità e quindi l'edizione è dedicata soprattutto al benessere e alla resilienza finanziaria di voi giovani. Quindi prendete il cura di voi, prendete il cura dei vostri soldi, ma questo tipo di consiglio lo trovate anche nei famosi cinque consigli pubblicati dal Comitato sul sito istituzionale. Questo fatto cerca di collegare le vostre esigenze a situazioni complesse, che quindi possono incidere sul vostro presente ma anche sul vostro futuro. E questo tema che abbiamo scelto nella Locandina, quindi trovate il titolo Comunicazione finanziaria trasmesse dai social, ribellismo dei millennial, manipolazione dell'investitore inconsapevole, e di grandissima attualità. Domani tra l'altro ci sarà un convegno proprio su questo tema dell'influsso dei social, perché siamo in un momento in cui sta esplodendo il dibattito, che insomma ha aperto già da tempo, circa la responsabilità e la discrezionalità delle piattaforme nel moderare le conversazioni online. E quindi questa responsabilità che coinvolge sia le politiche di moderazione che adottano le piattaforme per le conversazioni, sia il filtro algoritmico nel selezionare i contenuti che riceviamo noi tutti e poi carichiamo sulle piattaforme. Quindi c'è un problema di discrezionalità, di assenza di trasparenza, di contraddittorio e di governo dello spazio pubblico di discussione in modo trasparente e non discriminatorio. E dall'altra parte è quello che appunto ci riguarda, il tema di educazione finanziaria, come essere consapevoli i fruitori delle piattaforme e dei contenuti. Su questo l'Europa vuole essere all'avanguardia, in atto l'emanazione, cioè è stato emanato il Digital Service Act, che apre tutta una strada ai temi di co-regolazione dei contenuti con le piattaforme. Quindi si aprono grandissimi scenari futuri tra la consapevolezza dell'utente e la regolamentazione tra stati e piattaforme. Allora, chi ne parla di tutto questo? Abbiamo, diciamo, avete con me, insomma, che sono della sede di Bilano della Banca d'Italia e mi occupo di educazione finanziaria in quanto sono referente per l'educazione finanziaria con un altro collega. Il professor Marco Nado, della Bocconi, ma anche pubblicista, quindi sicuramente leggerete sui media i suoi bellissimi articoli, i suoi bellissimi commenti. E invece gioca in casa il professor Paolo Giudici, professore di Statistica e Data Science, nonché responsabile del laboratorio già Data Mining. E appunto proprio su quest'ultima parte poi degli algoritmi e della regolamentazione a livello europeo, insomma, sarà più coinvolto. Ma io direi che possiamo cominciare subito con il professor Marco Nado che ci racconta un po' di queste storie su GameStop e altri, diciamo, fatti che sono avvenuti più di recente. Grazie dottor Turrisi, mi fa molto piacere, grazie dell'invito, grazie al Collegio Ghisleri per aver organizzato questa importante iniziativa che credo che giunga in un momento molto importante, come ha già accennato il dottor Turrisi. Io brevemente vorrei trattare alcuni argomenti. Primo, il problema della borsa oggi in tempi di pandemia, che a molti appare come il paese dei balocchi e attira come quei luoghi in cui l'aranciata sgorga spontanea dalle fontane ed è sempre festa, come dicevo all'uscignolo. Il secondo tema che vorrei trattare è il fenomeno del fast trading, appunto ha citato prima il caso GameStop, che è un elemento permanente delle borse di oggi. vorrei cercare di vedere quali sono gli insegnamenti del caso GameStop e infine le conseguenze soprattutto per i giovani. Ecco, io ho preparato una presentazione, se si potesse mandare... Non c'è? No, al momento non si vede. Deve fare condividi schermo in basso e selezionare la presentazione. Io vedo disattiva audio, disattiva video, sicurezza, partecipanti, condivisione schermo. Eccolo qua. Quello. Perfetto. Ed è la... Devo cercare il mio... Sì. Sì. Mentre il professor... Se l'avano fatte voi, avevamo detto. Allora lo facciamo noi, aspetti un secondo. Sì, adesso lancio magari la regia, così. Proprio ieri, sulle 24 ore, è venuta fuori una ricerca in cui si vede come i social stanno muovendo attraverso, diciamo, le piattaforme tipo Twitter e WellStreetBets, che sicuramente adesso citerà il professor Ronaldo, stanno muovendo alcuni strumenti finanziari, in particolare le azioni. Si è visto che, in particolare, i settori che sono più mossi attraverso i consigli che arrivano dai social network e il settore delle auto elettriche, la cannabis, che sta impazzando con alcuni incrementi di, diciamo, alcune società che operano nel settore della cannabis e soprattutto poi i criptovalute. Su questo potremmo anche tornare. Ecco che abbiamo le slide delle professore. Benissimo. Perfetto. Scusi, i bottoni per andare avanti e indietro? No, in questo caso devo farlo io, come le avevo detto. Quindi mi dice lei quando andare avanti. Allora, avanti di due. Ecco, questo, come dicevo, perché la borsa come il paese dei balocchi. E questo è quello che è successo nell'ultimo anno. Il 23 marzo dell'anno scorso l'indice americano era a 2.237, il venerdì scorso era a 3.913, con un incremento del 75%, nel momento, nell'anno in cui l'economia mondiale crollava. Da qui a vedere la borsa come occasione di facili guadagni in una situazione di emergenza economica, il passo naturalmente è molto breve. e oggi la borsa è particolarmente, come posso dire, lavora in modo particolarmente intenso. Prossima slide. Come sapete io ho il indebole per i film, quindi ho usato qualche titolo di film. Un giorno di borsa oggi, un giorno di ordinaria follia come nel film con Michael Douglas. Pensate che ogni giorno, soltanto sul Nasdaq, nel quarto trimestre dell'anno scorso, ha tradotto 873 milioni di contratti, numero di contratti. Quindi si erano moltiplicate per il valore singolo di un contratto, vi rendete conto di quanti miliardi e miliardi passano ogni giorno. 873 milioni in un trimestre vuol dire oltre 100 milioni al giorno. Tecnologie su oltre 50 milioni al giorno. Oggi i mercati lavorano con tecnologie ultraveloci. Il cosiddetto fast trading, che è cominciato qualche anno fa, era iniziato per sfruttare differenze di tempo dell'ordine dei secondi. Poi si è passato ai decimi di secondo, poi ai millesimi di secondo. E stiamo ancora andando avanti. Inoltre si stanno, sempre per via della tecnologia, si stanno riducendo enormemente i costi di transazione. E questo ha determinato naturalmente l'afflusso di piccoli investitori che possono comprare titoli sui principali mercati con la stessa facilità con cui comprano la pizza dal divano di casa. tanto che oggi i piccoli investitori sul mercato americano almeno contano più di tutti i grandi messi assieme. e cito qui un articolo del Financial Times. Prossima slide, grazie. Qui entra il problema del retail trading e i giovani. Altro film con Michael Douglas, attrazione fatale perché le statistiche dicono che la maggior parte dei retail trader sono giovani. E per forza perché questo tipo di attività, questa attività frenetica sui mercati, sfrutta due modelli di comportamento tipici dei giovani di oggi. Innanzitutto i social network, perché queste cose utilizzano dei siti che danno consigli, tra molte virgolette, poi su questo torneremo. Reddit, che è una delle entità implicate nella vicenda GameStop, aveva due milioni di iscritti, che è già un numero elevato, e nel giro di un mese sono arrivati a 8 milioni. Questo testimonia la rapidità con cui il fenomeno si diffonde. E poi c'è un secondo aspetto, caro ai giovani, e cioè l'abitudine al videogioco. E fare queste operazioni, sfruttando le differenze di pochi secondi, pochi millesimi di secondo, naturalmente sembra un videogioco in cui devi colpire il bersaglio o uccidere il nemico. La finanza, e in particolare quella che si chiama finanza cognitiva, dice che questo è estremamente pericoloso. Kahneman, che è uno psicologo e che ha vinto il Nobel per l'economia del 2002, ha teorizzato due modelli, due modalità del pensiero umano. Una è quella veloce, sono le reazioni istintive o di pancia. L'altra è quella lenta, che analizza la situazione, analizza i dati, anche quelle poco visibili, possibilmente con poche emozioni. È ovvio che quello che stavamo dicendo, cioè come funzionano i mercati oggi, fa lavorare soltanto la prima modalità di pensiero. E Kahneman ammonisce che qualsiasi cosa che accelera la gente anziché rallentarla può provocare comportamenti impulsivi e dannosi. Possiamo passare all'altra slide e arriviamo al caso GameStop, le montagne russe, il film è Roller Coaster. Questo è l'andamento del titolo GameStop negli ultimi mesi e segnato lì il momento in cui i piccoli hanno attaccato i hedge fund. Vedete come le oscillazioni sono estreme e quindi evidentemente ci sono alcuni che guadagnano ma altri che perdono insomma perché come vedremo fra poco stiamo parlando di un gioco a somma zero. Ed è l'influenza del web è ormai molto forte. Ormai si parla di meme stocks, cioè quelli che i titoli che sono più citati nei siti di cui parlavo prima. E queste sono la capitalizzazione dei primi cinque. Qui c'è GameStop ma sono anche aziende conosciute come BlackBerry, tanto per dire. L'ordinata non si vede ma il valore massimo sono 50 miliardi di scambi giornalieri. Prossima slide, grazie. Allora la domanda è chi ha vinto in questa vicenda di GameStop? Vediamo prima quali sono le parti in causa. Abbiamo detto innanzitutto la folla dei piccoli trader soprattutto giovani, ribadisco. i grandi hedge funds e le piattaforme e i social come Robinhood, Reddit, eccetera. Robinhood è la piattaforma. Reddit invece è il sito che citavo prima. Ora, visto anche l'andamento del titolo, per i piccoli trader è un gioco a somma zero. e quindi il Financial Times dice si chiamerà Robinhood ma nella vicenda non dobbiamo vedere i poveri che vengono difesi dal prepotente sceriffo di Nottingham perché quello che vince in questo caso è proprio lo sceriffo. In altre parole commento per quanto riguarda la vittoria di deboli si prega ripassare. Vediamo un'altra situazione. Andiamo alla prossima slide. Vorrei ricordare che il retail trading è esploso con la pandemia. Perché? Perché è il motivo che ho detto prima perché tutti attratti da questa esplosione dei prezzi e poi perché la gente sta a casa ha più tempo libero anche 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 i giovani eccetera eccetera. Un primo paper che cito qui dice che nel lockdown il retail trading ha ha avuto un forte incremento e soprattutto per i titoli che avevano avuto una forte copertura mediatica legata alla pandemia. un secondo paper ci dice ancora di più perché dice no prego indietro grazie perché ci dice che la fascia superiore delle azioni che vengono comprate ogni giorno lo 0,5% perdono circa il 4-7% nel mese successivo. quindi è più facile perdere e guadagnare. E un autorevole personaggio capo del Oxford Risk Behavioral Finance Group cioè quello che studia la finanza comportamentale dice che l'emotional trading tipicamente costa agli investitori 3 punti percentuali di rendimento annuale. Ma adesso questa cifra è ancora più alta e quindi scusate e non solo prossima slide c'è un pericolo alle porte perché una un'analisi della Deutsche Bank dice che metà degli investitori tra 25 e 34 anni che hanno un conto di trading online metteranno metà di quello che riceveranno dal famoso stimolo di 1,9 trilioni che gli Stati Uniti stanno cominciando a mettere nell'economia e lo userà per operazioni in mercato azionario presumibilmente del tipo che abbiamo visto ho commentato qualcuno avverta Biden perché forse gli effetti macro saranno un po' se queste cifre sono giuste gli effetti macro saranno purtroppo un po' meno positivi di quanto si pensi e per concludere questo aspetto prossima slide grazie ho risumato la corsa all'oro di Charlie Chaplin perché la vecchia regola dai tempi della corsa all'oro che sia quella californiana del 1849 o quella del Klondike del film dice che se volete guadagnare in una corsa all'oro vendete pale e picconi quelli sono gli unici che sicuramente avranno dei risultati positivi di conseguenza prossima slide grazie due insegnamenti per concludere primo il fast trading è comunque un gioco a somma zero nel migliore dei casi come la roulette e io vedo in questa in questa situazione un rischio che è il rischio della ludopatia che sappiamo sta diventando una piaga sociale e ripeto tanto più grave quanto più riguarda una popolazione giovane che richiede immediatamente un'educazione finanziaria perché voglio dire ci siamo occupati anche con con dottor turrisi negli ultimi anni di educazione finanziaria e le nostre esperienze risalgono a molti anni fa e quando abbiamo cominciato noi pensavamo nella educazione finanziaria delle scuole soprattutto che stiamo preparando dei giovani a scelte finanziarie da fare in futuro un po' come che so l'educazione civica o cose di questo genere qui invece siamo in un campo diverso per cui si tratta di prevenire dei pericoli che sono concreti e immediati e dunque l'educazione finanziaria non solo è drammaticamente importante ma richiede anche di cambiare l'ottica con cui ha funzionato in futuro perché ripeto abbiamo di fronte un grave problema grazie grazie la cosa importante sul trading a parte le rilevazioni che dicono che soltanto l'uno per cento dei trader guadagna quindi il 99% anche diciamo quelli non giovani perdono ma la cosa importante è che nella vicenda GameStop i giovani che i millennials che poi sono entrati diciamo con un intento come dire affascinati da un intento pseudo democratico vuol dire al grido fax the bank quindi distruggere lo strapotere degli hedge fund perché poi GameStop sostanzialmente era un'impresa e un'impresa che per effetto l'innovazione tecnologica ha visto scemare il suo valore intrinseco nel senso che il noleggio dei cd il noleggio dei film è ormai diventato abbastanza residuale con l'ingresso delle piattaforme tipo Netflix e così via quindi diciamo GameStop di per sé da un punto di vista dei cosiddetti fondamentali come dicono gli economisti era un'impresa in forte difficoltà il cui valore in borsa prima di questi interventi determinava un'azienda in declino diciamo quasi sull'orlo del fallimento quindi gli age fund avevano puntato diciamo proprio sulla possibilità di acquistare allo scoperto azioni di GameStop diciamo puntando con i derivati a ricomprarle quando il prezzo sarebbe sceso e quindi diciamo che cosa hanno giocato attraverso queste piattaforme che consigliavano attraverso i social di puntare su GameStop i vari piccoli hanno cominciato ad acquistare diciamo costringendo visto che non avveniva la discesa del prezzo ma il prezzo saliva non avendo le azioni sottostanti gli age fund hanno dovuto pure loro cominciare a comprare perché andavano a scadere i derivati e quindi dovevano ricomprare quelle azioni diciamo gli age fund coinvolti hanno perso 10 miliardi hanno perso sempre virtualmente diciamo la cosa grave qual era appunto che il tutto si basava su come dire un fatto emozionale quindi coinvolgimento emozionale degli investitori assolutamente diciamo privi di consapevolezza del fatto di giocare con strumenti a leva quindi diciamo la possibilità di perdere multipli di quello che stavano puntando cioè queste migliaia di giovani grazie all'effetto leva facevano delle puntate ma in massa di migliaia di persone quindi diciamo riuscivano ad avere una grande forza sul mercato puntando poche pochi dollari ma in realtà acquistando posizionandosi su derivati in caso di scommessa sbagliata avrebbero perso e molti hanno perso molti tipo 10 15 20 volte la posta giocata allora cosa è successo che altri operatori che invece ragionano soltanto con gli algoritmi hanno come dire evitato di diciamo far investire i propri diciamo i propri sparmatori i loro clienti in quanto l'algoritmo il sistema algoritmico hanno come dire intercettato il fatto emozionale allora algoritmi buoni quelli che erano sottostanti ai social che hanno come dire manovrato i dati che arrivavano dalle piattaforme e quindi hanno convogliato tutti questi giovani a fare delle scommesse che quasi sicuramente alla fine saranno perdenti o algoritmi buoni che sono quelli che poi gli specialisti che fanno veramente consulenza hanno utilizzato Paolo Giudici che cosa ci racconti la voce ok no di nuovo è chiuso eccomi qua mi sentite benissimo dunque ben anzitutto è un piacere è un piacere essere qui con voi virtualmente si intende ringrazio molto il collegio Ghisliere per aver organizzato l'iniziativa dottor il punto è l'emerge delle piattaforme quindi sostanzialmente io vedo questa emergenza di piattaforme come una conseguenza della diminuzione delle barriere all'entrata in molte nostre attività a seguito dell'estrema diffusione di dati e di algoritmi basati sui dati che vengono comunemente chiamati come algoritmi di intelligenza artificiale oggi diciamo molte molte più persone rispetto a ieri possono fare determinate operazioni possono investire nei mercati possono acquisire informazioni che prima era più difficile acquisire possono anche mettere in difficoltà il sistema e questo fenomeno che abbiamo visto nel mondo della finanza in realtà è accaduto anche in altri ambiti pensiamo ad esempio sempre con riferimento ai giovani millennial all'ambito musicale o anche a quello cinematografico oggi è molto più facile realizzare dei video su youtube postarli e condividerli non parliamo della qualità naturalmente parliamo della semplicità nel fare certe cose anche nel diciamo nel poter postare condividere con migliaia di persone il proprio pensiero e le proprie creazioni artistiche quindi io credo che il punto di partenza non possa che essere quello del cercare di capire quale governance costruire per queste piattaforme per queste diciamo metodologie basate sull'uso massivo di dati qualunque essi siano dati reali dati fake provenienti magari da social network dati in generale e naturalmente è difficile proporre una ricetta diciamo che possa migliorare le cose ma certamente il binomio fra educazione finanziaria e regolamentazione delle piattaforme a mio parere può essere una strada diciamo migliorativa quello che le riflessioni che vorrei proporre si basano un po' sul lavoro di diciamo anche di ricerca che sto portando avanti con i ragazzi del mio gruppo e con varie altre università europee nell'ambito di due progetti di ricerca europei che coordiniamo uno finta quindi chiaramente dedicato alle tecnologie finanziarie e diciamo alla loro governance un altro collegato diciamo alla recovery dalla pandemia e alla diciamo la necessità di sviluppare anche tecniche di intelligenza artificiale sostenibili per poter diciamo tornare a una situazione di quasi normalità nell'ambito di queste riflessioni diciamo che il diciamo il tema chiave che volevo sottoporre alla vostra attenzione e anche al dibattito è il seguente diciamo queste piattaforme di cui abbiamo sentito parlare prima si basano sull'utilizzo massivo di dati e sull'uso di tecniche di intelligenza artificiale o di machine learning o big data analytics ci sono tanti nomi analoghi molto potenti difficili da controllare soprattutto come diceva bene del professor che permettono comportamenti impulsivi basati sulla pancia proprio perché sono facilissimi da usare questi algoritmi queste piattaforme sono implementate naturalmente in smartphone in telefoni cellulari che abbiamo in tasca tutto il giorno è molto facile utilizzare una piattaforma di trading una piattaforma di credito peer to peer una piattaforma di robot advisory o magari investire in criptovalute estremamente semplice come fare a diciamo a convogliare queste innovazioni verso uno sviluppo sostenibile costabilendo dei criteri di governance cioè un utilizzo etico quello che ho in questa slide ho chiamato l'utilizzo etico richiamando i termini della commissione europea trust worthy dell'intelligenza artificiale in finanza questo vuol dire appunto stabilire criteri di governance delle applicazioni dell'intelligenza artificiale che siano dei principi condivisi e appunto la commissione europea ne ha indicati alcuni la non discriminazione la spiegabilità la robustezza la correttezza predittiva ma cercare di rendere questi principi anche operativi cioè nell'ambito costruendo degli use case dei casi concreti che ci permettono di poter anche fissare delle soglie delle asticelle al di sopra delle quali dire questa applicazione di intelligenza artificiale basata su social network è accettabile quest'altra non lo è oppure questa applicazione va migliorata questo è il lavoro che appunto stiamo portando avanti da un po' di tempo anche in alcuni ambiti istituzionali e effettivamente quello che emerge da queste riflessioni è un punto diciamo positivo a favore di queste applicazioni di intelligenza artificiale così come tutta l'innovazione che abbiamo avuto in passato ogni innovazione di per sé non è negativa va però governata anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale possono loro stesse fornire dei criteri di media di buon comportamento in che modo utilizzando la stessa intelligenza artificiale per misurare anticipatamente i rischi che può generare per esempio uno dei rischi principali legato a queste applicazioni e ai casi che abbiamo discorso prima è il rischio cibernetico cioè il rischio che in questo tempo di pandemia è aumentato enormemente con l'utilizzo intensivo di tecnologie anche di videoconferenze cioè il rischio che ci siano degli attacchi informatici la stessa intelligenza artificiale permette di recuperare dal web informazioni su quali attacchi ci sono verificati e ci fornisce informazioni su come prioritizzare azioni di mitigazione di questi attacchi un altro poi vedremo dei casi concreti un altro rischio molto importante nel mondo dell'intelligenza artificiale legato all'educazione finanziaria è la spiegabilità cioè non basta dire che la priorità dire diciamo all'utente millennial di un'applicazione di robot advisory che la priorità che questo titolo cresca del 95% bisogna anche spiegare perché perché altrimenti si hanno comportamenti impulsivi questo è la cosiddetta spiegabilità che può anche essere realizzato con metodi stessi di intelligenza artificiale poi ci sono i rischi di piattaforma come dicevo prima il professor Leonardo legati a che cosa legati al fatto che queste piattaforme sono sistemiche cioè c'è interdipendenza tra le persone che la utilizzano per cui si verificano fenomeni come quello del ponte percolante molte persone camminano sul ponte sospeso contemporaneamente per cui il ponte può crollare e lo stesso fenomeno accade su queste piattaforme come abbiamo visto in passato quindi tutto questo per dire che in definitiva le innovazioni portate dal massimo di dati dall'applicazione dell'intelligenza artificiale possono a se stesse fornire una soluzione ai problemi da loro generati adesso vi vorrei mostrarvi alcuni esempi anche se l'ora è un po' tarda però volevo provare a concretizzare un pochino quello che sto dicendo con degli esempi concreti basati su analisi dei dati e poi il tema fondamentale dell'educazione finanziaria è che oggi questa è sempre più interdisciplinare io sono laureato in economia però mi rendo conto che per capire certi fenomeni occorrono anche conoscenze tecnologiche informatiche e anche di modelli matematici cioè l'educazione che serve per capire queste problematiche è sempre più multidisciplinare e iniziative come queste collegio ghislieri sono molto positive in queste direzioni perché permettono a giovani di discipline diverse di capire cosa sta accadendo in mondi collegati quindi sono iniziative molto importanti questo slide appunto vi presenta quello che accade per esempio per i rischi cibernetici un lavoro di ricerca stiamo portando avanti con la banca dei regolamenti internazionali sostanzialmente questi grafici dicono che i rischi cibernetici dipendono molto dai settori cioè certi settori sono più esposti di altri per esempio il settore finanziario ha una frequenza di attacchi molto alta ma il costo dell'attacco è più basso rispetto a quello di altri settori come mai? perché il settore bancario è più regolato c'è un maggiore utilizzo di tecnologie di analisi dei dati anche grazie all'effetto della regolamentazione quindi la lesson learned è sviluppare anche in altri ambiti soprattutto in quelli diciamo tecnologici della manifattura poco magari meno regolamentati sviluppare simili criteri e quindi permettere di prevenire i rischi un altro risultato interessante che abbiamo trovato è che l'utilizzo del cloud computing per esempio non aumenta ma riduce i rischi cibernetici fino a un certo punto un altro esempio adesso salto magari una slide riguardo appunto la spiegabilità questi grafici sostanzialmente riguardano una diciamo un'applicazione assicurativa instant anche questo diciamo è un modello che si sta diffondendo soprattutto tra i giovani c'è la possibilità di acquistare un'assicurazione ad hoc per un evento su misura non so vado a fare la maratona di Milano e mi assicuro solo per la maratona di Milano in questo grafico questa compagnia assicurativa che fa questo tipo di obbligazioni mostra come sia più diciamo utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale quelli che in questo grafico sono in arancione si migliora molto la capacità predittiva circa diciamo la possibilità che un potenziale cliente acquisti questa assicurazione poi il grafico di destra vi spiega anche perché dando una spiegazione personalizzata cioè sostanzialmente questa per esempio questa variabile i giorni dall'ultimo acquisto è una variabile che non è non ha lo stesso ruolo per tutte le persone ma dipende dal soggetto considerato questo ha anche a che fare molto col comportamento dei giovani che è molto differenziato e spesso viene cercata la user experience cioè la personalizzazione del fenomeno un altro esempio l'ultimo slide di cui si accennava prima è quello delle criptovalute è molto di moda chiaramente ci sono molte problematiche dietro al mondo delle criptovalute non regolamentato o poco regolamentato tuttavia questo mondo fornisce anche delle risposte positive per esempio il concetto dello stable coin cioè la criptovaluta diciamo stabile legata alle valute nazionali può essere sviluppata in modo a ridurre i rischi per esempio legati ai tassi di cambio in questo lavoro abbiamo mostrato come un'ipotetica stable coin che fosse nato con l'avvento dell'euro nel 2002 come paniere con pese costruiti con metodi di intelligenza artificiale delle altre valute sarebbe stato estremamente stabile in questo grafico è la linea sostanzialmente orizzontale non avrebbe penalizzato gli investitori da rischi di cambio come quelli legati all'andamento molto volante del cambio euro dollaro per esempio ecco non voglio soffermarmi di più sugli aspetti tecnici però volevo diciamo per tornare all'inizio della mia presentazione tornare al punto cioè lo sviluppo delle tecnologie in particolare di quelle basate sull'unasio dei dati può essere positivo ma va da un lato regolamentato naturalmente in modo leggero diciamo in modo da non come dire distruggere l'innovazione ma va regolamentato allo stesso tempo va sviluppata l'educazione finanziaria e anche tecnologica però per permettere ai giovani diciamo a tutti di comprendere appieno quello che stanno facendo quando scaricano una piattaforma sul proprio cellulare questo è un po' il messaggio che volevo portare vi ringrazio molto e soprattutto sono estremamente curioso rispetto alle domande e la discussione che potrà seguire benissimo grazie devo ovviamente poi correggere perché non sono criptovalute ma come diciamo noi Banca Italia criptoasset tra l'altro abbiamo fatto proprio a ottobre un webinar in cui abbiamo parlato di euro digitale qui al Gisleri ma questo ci porterebbe molto lontano ma soprattutto richiamando il discorso dei criptoasset dicevamo che proprio su alcune di queste piattaforme social si parla tantissimo di bitcoin e company e del resto anche i ragazzini più piccoli molto spesso quando facciamo questi interventi di erogazione finanziaria scopriamo che non solo sono curiosi ma magari sul loro smartphone hanno un wallet con alcuni bitcoin quindi diciamo tira tantissimo questo discorso sempre per la facilità di guadagno quindi il solito discorso del paese dei balocchi come diceva Marco Onado ma ed è anche poi alla base del grandissimo successo che sta avendo Clubhouse questa piattaforma dove si parla si chiacchiera magari ci sono queste stanze dove si è in 5000 si parla di tutto ma molto spesso purtroppo si parla di finanza anche a sproposito ma tornando alla vicenda GameStop durante diciamo l'indagine diciamo dal Parlamento degli Stati Uniti sulla vicenda i due proprietari della piattaforma Robinhood e Reddit hanno negato che nella vicenda siano intervenuti sistemi algoritmici tipo GPT-3 allora GPT-3 è una diciamo evoluzione praticamente è un modello di linguaggio tecnicamente autoregressivo ma qui forse poi devo stare attento a quello che dico perché non sono io l'esperto linguaggio autoregressivo di terza generazione che utilizza ovviamente il Deep Learning ed è praticamente un sistema computazionale progettato per generare sequenze di parole codici o altri dati a partire da un input sorgente chiamato prompt e diciamo che sono casidusi le traduzioni che sono diventate insomma affidabili le correzioni grammaticali chatbot le composizioni di mail di musica composizioni di report giornalistici sono diffusissimi e allora la domanda era stata ma in tutta questa conversazione sui social che poi ha scatenato la vicenda GameStop hanno agito diciamo gli interessati hanno negato c'è stata una società che invece ha fatto un'analisi in particolare del giorno del 28 gennaio picco il picco della crescita di GameStop e hanno visto che invece c'erano state delle conversazioni che molto presumibilmente erano legate a chatbot e quindi che cosa vogliamo vogliamo dire con questo queste queste conversazioni non hanno alcuna diciamo rilevanza semantica abbiamo detto quindi non ha non rispondono a schemi di tipo logico matematico o etico sono delle mere correlazioni che sono diventate efficientissime perché adesso diciamo i parametri che vengono utilizzati da GPT-3 sono addirittura 175 miliardi che è una cosa spaventosa allora io stesso quando ancora si poteva andare ai concerti nei bei tempi è un festival wired qui a Milano ho assistito a una gara tra un computer gestito da ingegneri dell'università la Sapienza di Roma che gareggiavano con un pianista jazz ovviamente uno brovvio è venuto fuori però era impressionante come da alcune note il computer riusciva a creare delle melodie ci avrei dei dubbi insomma sulla bellezza delle melodie comunque le creava andava per fatti suoi e non riusciva più il pianista a seguirlo allora la stessa cosa è stata fatta con degli esperimenti tipo che ne so con l'infinito di Leopardi gli è stato dato l'incipit poi GPT3 ha continuato per fatti suoi oppure con l'incipit della Divina Commedia e poi il computer ha fatto tutta la Divina Commedia per fatti suoi con indicazioni plausibili e allora il professor Onado ovviamente è appassionato di cinema anch'io per la verità però vi faccio una citazione da un volume da un libro a macchine come me Ian McEwan non so se lo conoscete se qualcuno di voi l'ha letto molto immaginate sì vero e allora come insomma chi l'ha letto lo sa c'è questo robot Adam praticamente a casa del protagonista c'è tutta una serie di situazioni distopiche tra cui il fatto che Turing è vivente e questo protagonista del romanzo lo va a trovare allora a un certo punto Turing ancora vivo gli dice che diciamo finanza a livello scientifico la mente è stata poco più di una sfilata di moda Freud finanza comportamentale psicologia cognitiva tutte intuizioni isolate niente di approfondito né di profetico che potesse guadagnare una buona reputazione alla psicoanalisi o alle scienze economiche le nostre e quindi senza sapere granché della mente decise Turing di provare a introdurre una introdurre un artificiale nel mondo delle relazioni il machine learning non può arrivare però molto lontano dovrai fornire alla mente alcune regole di vita a cui attenersi e perché non quella di non poter mentire secondo la legge dell'antico testamento nel libro dei proverbi mentire è un abominio contro Dio ma chi scriverà l'algoritmo della bugia generosa che risparmia l'imbarazzo di un amico allora non sappiamo come insegnare a mentire a una macchina ecco il discorso è questo tutti questi algoritmi sono come dire basati su il machine learning sono basati su come dire abbinamenti di plausibilità cioè l'algoritmo base se piove prendi l'ombrello no oppure come dice diciamo uno degli studiosi si basano sullo stesso principio rossa riserva il tempo si spera sì è assai probabile con altissima diciamo verosimiglianza che il giorno dopo effettivamente accada questo però tutto il machine learning è basato su una capacità predittiva allora che cosa vogliamo vogliamo dire con il GPT 3 possiamo arrivare ad avere senza rendercene conto a che fare anche con relazioni di tipo finanziario plausibili ma che sono basate esclusivamente su meccanismi di probabilità che non ci fanno rendere conto come diceva Paolo Giudici di come sono state costruite e quindi incorporando tutti quei pregiudizi quei bias quelle trappole mentali che chi ha programmato il meccanismo ovviamente ha inserito allora qual è il concetto per tornare al nostro discorso di educazione finanziaria l'importante è come dire seguire canoni che riguardano la materia di cui ci si occupa vale a dire se sto facendo un investimento devo capire che cosa sto sottoscrivendo perché le conseguenze di seguire aspetti meramente emozionali ovvero agganciarsi a meccanismi cognitivi che sono basati sulla plausibilità non sulla verità possono portare a disastri sotto il profilo economico ecco questo è il tipo di messaggio che alla fine stiamo portando di fatti di moda fatti che sono avvenuti che stanno provocando conseguenze economiche e che stanno scompaginando il mercato perché il fatto stesso di non poter prevedere coalizioni di piccoli investitori che seguono messaggi di questo tipo emotivi o comunque condizionati perché poi tenete presente che chi fa il guadagno su questo sono gli stessi social network attraverso diciamo l'impossessamento dei dati sottostanti a tutte le conversazioni a tutte diciamo le scelte che vengono effettuate o addirittura sempre i grandi diciamo le grandi società finanziarie che attraverso le commissioni o comunque la possibilità di resistere perché tenete presente che Robin Hood per via della necessità poi di coprire le marginazioni su tutti i derivati che pur non prendendo inizialmente commissioni ancora adesso non diciamo non prendeva le commissioni da tutti questi giovani che investivano però doveva per non andare in fallimento stavolta sulle stanze di compensazione andare a coprire la marginazione dei vari derivati che venivano negoziati allora ha fatto un grande aumento di capitale quindi si è rinforzato alla fine a questo punto ha potuto reggere all'ondata di grandissime negoziazioni e vendendo gli ordini di acquisto ai broker ha guadagnato quindi diciamo i conflitti di interesse che sono sottostanti fanno sì che di fronte a un apparente atto di ribellione democratica in realtà i soliti soggetti forti della finanza hanno avuto il loro guadagno questo è un po' proprio brutalmente quello che è avvenuto direi che abbiamo giusto qualche minuto per a meno che il professor Ronaldo e il giudice non vogliono aggiungere su una qualche conclusione nel frattempo magari possiamo chiedere alla regia se vuole selezionare un paio di domande a cui possiamo rispondere prima di congedarci sì dunque chiedo a tutte le persone innanzitutto ringrazio per questi interessanti interventi che penso abbiano avuto la possibilità di illuminare comunque formare il nostro pubblico a coloro che volessero fare delle domande raccomando di utilizzare il pulsante alza la mano in modo che noi possiamo vedere coloro che volessero intervenire e dare loro la possibilità di aprire i microfoni prima delle domande però vorrei lasciare un secondo la parola all'avvocato Emilio Girino che è presidente dell'associazione alunni del chieslieri che vedo collegato e che so vuole apportare anche un suo saluto e fare un suo intervento quindi chiedo all'avvocato Girino al presidente Girino di portare anche il suo saluto Alessandro grazie e grazie molte in realtà io sarò brevissimo grazie per gli interventi sono stati molto lucidi e molto istruttivi come al solito conoscendone uno in particolare molto bene che è il professor Romado e che colgo l'occasione per salutare dopo così tanti anni che non abbiamo avuto occasione di rincontrarci di domande ne avrei francamente moltissime anche perché ho incominciato anch'io dopo qualche anno a studiare molto l'aspetto del fintech sotto un profilo giuridico però non è questa la sede il mio è soltanto un ringraziamento per la vostra partecipazione parlo ai relatori a questa iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio di formazione che Ghisleri sta facendo e che sta facendo anche con estrema attenzione a quelli che sono i cambiamenti della società io anzi mi scuso ma vi debbo lasciare perché devo entrare in un'altra videoconferenza tra brevissimo grazie a tutti di cuore arrivederci grazie grazie molte grazie vedo che Marco dalla valle ha chiesto la parola e quindi mi si sente? sì io ho una domanda molto semplice volevo chiedere visto anche che il prezzo comunque di GameStop è tornato attorno ai 200 considerando magari i 200 dollari considerando anche diciamo il coinvolgimento di investitori come Ryan Cohen o comunque investitori di grande importanza visto anche il rinnovamento di GameStop può essere che tutto questo fenomeno sia stato un qualcosa diciamo dettato da fondamentali più o meno forti barra importanti che però sia poi degenerato in un qualcosa che poi è stato lo short squeeze attraverso questi siti come Reddit prego chi vuole rispondere? ma posso cominciare io credo che coinvolga un po' tutti se capisco bene la domanda è se c'è dietro sono dentro dei fondamentali e credo che sia una domanda da apprezzare perché ci richiamo al fatto che la borsa ha dei fondamentali economici che con qualunque tecnologia rimangono rimangono sempre validi e il fondamentale economico è che il prezzo deve esprimere il valore e quindi la capacità di reddito futura di un'azienda punto detto questo qui passo dal cinema al teatro Shakespeare c'è del metodo in quella follia come sempre c'è dietro un ragionamento un ragionamento economico il ragionamento economico era quello degli hedge fund ed era anche un ragionamento economico il fatto che si poteva contrastare quella posizione questo è diciamo la peculiarità di GameStop è l'effetto valanga che ha assunto e la grande oscillazione di prezzo che ha determinato anche se è vero scusa no dicevo anche se è vero che risulta dalla stampa che GameStop abbia approfittato della situazione per lanciare un aumento di capitale per tentare di risollevarsi dalla difficoltà economica quindi in questo senso ci può essere ma è sempre una scommessa ci può essere un tentativo di GameStop di andare su un segmento produttivo diverso da quello ormai superato su cui si trovava nel momento diciamo in cui è stato attaccato dagli hedge fund prego Paolo quello che voglio dire è che appunto certamente c'è un tema di fondamentale certamente i mercati sono razionali però questa razionalità richiede del tempo prima di essere realizzata questo tempo può essere più o meno lungo e per iniziative nuove tecnologicamente questo tempo è necessariamente più lungo perché non ci sono esperienze simili io credo che in questo caso di GameStop ci sia stato un effetto valanga generato da quello che chiamiamo rischi sistemici cioè dal contagio dall'interdipendenza amplificato dai social network che crea la bolla può darsi poi che questa bolla si sgonfi più o meno periodo di tempo più o meno lungo in ogni caso c'è comunque un fenomeno appunto sistemico di bolla che ha poco a che fare con i fondamentali del mercato a mio parere poi perdiamo a presente uno degli altri tentativi che è stato fatto vale a dire sulla Bank of Japan che è la banca centrale del Giappone che è quotata e solo che ha un flottante così limitato e una distribuzione di dividendi talmente bassa che questo diciamo riversarsi dopo un'indicazione dei social su questo titolo ovviamente che cosa ha creato soltanto un effetto aumento in conto capitale del valore senza alcun sottostante perché ripeto come banca centrale non ha grande produzione di utili non ha flottante e quindi o molto limitato e quindi diciamo lì non c'era alcun aggancio al mercato e altrettanto si può dire per quei sparuti tentativi fatti sul mercato italiano dove però non ci sono operatori tipo college fund che su questi titoli sottili operano stabilmente diciamo con derivati quindi anche lì il tentativo che è stato fatto si ha creato un aumento del corso borsistico ma senza alcun effetto poi valanga come quello di GameStop abbiamo tempo forse per un'altra domanda prima di salutare i nostri amici vediamo se c'è qualche qualche altra domanda qualche altro intervento altrimenti mi riservo di farne uno io da totale assoluto non non addetto ai lavori ma ma persona interessata magari vediamo non vedo nessuno quindi ecco magari in una prospettiva più teorica e più sociologica mi chiedo se tutti questi nuovi applicativi si possano in qualche modo inserire in quel contesto di gamification che sta che sta andando ad attaccare tanti aspetti della nostra società e tanti processi della nostra società se ne parliamo è perché speriamo di no però sentiamo cosa dicono i professori allora comincio tu comincio io stavolta va bene ma io credo di sì perché anche la gamification fa parte del diciamo di quel concetto che illustrava anche prima di interdipendenza cioè inizialmente abbiamo condiviso i dati poi abbiamo condiviso le analisi su quei dati ora condividiamo anche le decisioni la gamification tutto sommato vuol dire un po' quello cioè decidere diciamo come dire un meccanismo che suggerisce delle decisioni collettive è un chiaramente ancora più il tema è ancora più delicato perché qui chiaramente si inseriscono questioni etiche molto importanti chiaramente indurre a prendere delle scelte è sempre un problema molto complicato e c'è pochissimo in tema di regolamentazione di queste gamification però d'altra parte la gamification stessa è stata utilizzata per esempio per rendere gli algoritmi di machine learning di ea spiegabili quello che vi ho detto prima per spiegare il perché la probabilità di acquistare quel titolo è alta si utilizzano algoritmi di gamification si chiamano sharply value che sono basati sulla stessa metodologia quindi come dire la metodologia magari negative per certi aspetti ha anche un risvolto positivo ma certamente è un fenomeno da seguire con grande attenzione con la gamification professore Ronaldo che ne penso sono perfettamente d'accordo due cose soltanto primo ogni innovazione tecnologica non deve essere respinta insomma va presa per quello che è valutata controllata se necessaria ma fa parte della nostra vita non possiamo tornare come le comunità Amish degli Stati Uniti che vivono ancora con i colcalesce e con la cosa perché rifiutano l'automobile o la locomotiva e quindi dobbiamo dare per scontato che entrino in finanza e io credo che però la diciamo l'estensione in questo modo sia pericolosa soprattutto perché questo è il mio secondo punto non dobbiamo dimenticare che la funzione fondamentale del mercato finanziario è portare finanziariamente le imprese e consentire ai risparmiatori i giovani di oggi ai risparmiatori di risparmiare e di avere e di avere un rendimento i guadagni di breve periodo sono un'altra cosa un altro film se vogliamo che va controllato eccetera e il grande sforzo di educazione che dobbiamo fare è che queste due cose non si mettano insieme perché vedo il pericolo che nella testa dei giovani si faccia confusione tra l'aspetto scommessa e l'aspetto invece fondamentale se posso aggiungere ancora una cosa è proprio il tema dell'impulsività cioè tornando indietro all'inizio della presentazione del professor Ronaldo è proprio questo il tema avendo queste applicazioni comode in mano nel telefono la tentazione è fortissima è difficile impedire sì infatti il discorso è che l'innovazione finanziaria il digitale si parla sempre anche in questi giorni che scorsa settimana c'è stata Milano Digital Week quindi il digitale per creare una società più equa sostenibile e inclusiva inclusiva allora il digitale che sempre è abbinato quindi green e blue che è così è così di moda ormai forse inflazionato quasi come resilienza è comunque inflazionatissimo e il discorso è che tutte queste innovazioni che in teoria semplificano la vita ma sottostante hanno tante cose complesse quindi c'è la complessità sfidare la complessità e qui insomma ci dobbiamo richiamare a Edgar Moren e i nostri diciamo filosofi della complessità che insomma pure pullulano in Italia dove abbiamo insomma fiori di pensieri allora non bisogna come dire rifuggire dall'affrontare questa complessità quindi l'innovazione digitale in teoria semplifica la vita include cioè rende possibile a più persone sfruttare gli strumenti finanziari ma sottostante richiede uno sforzo cognitivo per dipanare no quello complesso è quello che è come dire intersecato agganciato allora bisogna capire le intersecazioni tra i vari fattori e questo è uno sforzo che va richiesto cioè l'educazione finanziaria qui è educazione ad affrontare la complessità ecco questo è il contesto in cui ci siamo posti io direi che con questo messaggio che speriamo che insomma arrivi ai giovani ma anche ai meno giovani perché voglio dire non è che sono solamente loro che affrontano con un atteggiamento troppo semplicistico le cose a volte sono i grandi e bisogna vedere anche come noi in teoria grandi stiamo affrontando il tema di Next Generation You perché noi in questo momento dovremmo avere il compito di creare per il futuro dei giovani che ci stanno ascoltando una società appunto più equa più inclusiva più solidale quello dovremmo fare e anche col digitale lo possiamo fare però insomma sfruttandolo bene certamente a voi la parola di chiusura se allora non ci sono se non ci sono altri interventi ringraziamo i relatori per questa serata così importante ringraziamo anche la Banca d'Italia con cui si è creato nel corso del tempo una collaborazione che porta formazione e informazione di tipo finanziario ai più giovani e non solo ai giovani speriamo davvero di avervi presto ospiti qui magari di persona questa volta e ringrazio tutti i presenti per aver potuto aver voluto ascoltare questa serata così interessante quindi grazie a tutti un applauso anche se se sono virtuale ai relatori e buona serata buona serata arrivederci 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 Grazie.